gentili telespettatori buona giornata vediamo le ultime notizie del dopo elezioni speranza dice bene riforma assistenza anziani non autosufficienti è una notizia importante che oggi sia arrivata in consiglio dei ministri la riforma dell'assistenza agli anziani non autosufficienti dopo un lungo ed elaborato lavoro si punta finalmente ad integrare i servizi sanitari e quelli sociali l'obiettivo è un welfare più semplice più vicino alle famiglie anche attraverso il potenziamento dei servizi domiciliari belloni dice non farò il ministro così elisabetta belloni direttrice generale del dipartimento delle informazioni per la sicurezza intercettata dai cronisti dice faccio un altro lavoro ha precisato draghi i governi passano l'italia resta così draghi alla sua squadra nel giorno del consiglio dei ministri che segna l'addio con tanto di brindisi al governo di unità nazionale mantenerla come avete fatto per molti mesi richiede maturità senso dello stato e anche un bel po di pazienza nessuna ricriminazione o polemica ma draghi fa capire quanta ne ha avuta lui di pazienza a resistere ai veti ai ricatti dei partiti fino al giorno in cui lo hanno buttato giù la foto simbolo scattata sullo scalone di palazzo chigi vide vede il presidente uscente sorridente in prima fila al centro dell'immagine con brunetta la sua sinistra la ministra messa a destra giorgetti in ultima fila sorridono tutti tranne patuanelli che appare serioso il passaggio di consegne al futuro governo guidato da meloni si avvicina e draghi ha tracciato un bilancio dei quasi 20 mesi di governo ha invitato i ministri a essere orgogliosi dei risultati che avete ritenuto dei progetti che avete avviato e che altri sapranno completare quindi ha rilanciato la richiesta di agevolare una transizione ordinata quindi ha rilanciato la richiesta a tutti i ministri che permetta a chi verrà di mettersi al lavoro da subito un solo assente il ministro roberto cingolani a causa di impegni presi in precedenza e domani atteso al consiglio europeo fedriga dice le regioni presenteranno un pacchetto di proposte e ci mancano anche le regioni con tutti i problemi ci ci sono arrivano le regioni che nasconderanno dentro il pacchetto di proposte l'autonomia quelli del nord italia meloni ai parlamentari siate presenti sempre sulle assenze non ci sono assenze giustificate bisogna essere presenti e basta è una delle raccomandazioni che la leader di fratelli italia giorgia meloni ha fatto i suoi parlamentari durante la prima assemblea post elezioni secondo quanto si apprende meloni ha insistito su questo aspetto insieme al valore dell'esempio che ha chiesto il suo in parlamento noi dobbiamo dare l'esempio come gruppo anche con la nostra presenza avrebbe detto la presidente chiesta inoltre sobrietà nell'estetica e nell'esposizione pubblica cercheranno di criticarci per quello che diciamo facciamo come ci vestiamo perciò bisogna evitare di cercare di comparire a tutti i costi perché il rispetto delle istituzioni si fa nel concreto di maggio la più giovane eletta in fratelli d'italia compirà 28 anni a novembre oggi si è insediata a montecitorio consiglio dei ministri poi ne abbiamo già parlato patuanelli 5 stelle salvini alviminale sarebbe fuori luogo io credo di no matteo salvini non dovrebbe fare di nuovo il ministro dell'interno lo ha fatto in modo strumentale mettendo al centro del dibattito un tema che andrebbe toccato col giusto tatto io credo che sarebbe fuori luogo ma è solo la mia idea dice nella trasmissione un giorno da pecora al senato 61 eletti su 200 si sono già registrati a palazzo madama doré sono già 61 quindi i registrati in sala nasseria a palazzo madama nella prima giornata dedicata all'accoglienza degli eletti un'affluenza importante commentano fonti del senato anche considerando che gli eletti sono in tutto 200 in conseguenza della riforma costituzionale che ha tagliato il numero delle assemblee di camera e senato al primo giorno in cui era possibile sbrigare le pratiche burocratiche quindi più di un quarto degli eletti si sono presentati le operazioni andranno avanti anche nei prossimi giorni l'aula è convocata per le 10 e 30 di giovedì prossimo 13 ottobre con questo ordine del giorno costituzione dell'ufficio di presidenza provvisorio costituzione della giunta provvisoria per le verifiche dei poteri e proclamazione non dell'impero ma proclamazione dei senatori subentranti votazione per l'elezione del presidente e poi in base alle norme vigenti anche i parlamentari già in carica nelle passate legislature per poter svolgere il loro mandato devono completare le procedure di accreditamento presentando i documenti di identità e la conferma della proclamazione il maggiore afflusso di eletti al senato si è registrato finora tra gli esponenti di fratelli d'italia quello del partito di giorgia meloni sarà il gruppo più numeroso in avvio di legislatura e poi abbiamo andiamo a vedere dalla chiesa emozione fortissima la camera mi accoglie l'immagine di papà entrare alla camera da deputata è un'emozione fortissima dice rita dalla chiesa io entro qui dentro e trovo questa mostra che avevo già visto nei giorni scorsi vedo che ad accogliermi ci sono papà falcone borsellino pio la torre è una responsabilità più forte però è un segnale bello mi sento accolta con affetto in famiglia erano tutte persone che conoscevo ha aggiunto riferendosi alla mostra a testa alta cravatta e fular con tricolore in regalo ai parlamentari eletti di fratelli d'italia regali made in italy consegnati dalla meloni durante l'assemblea dei deputati e senatori svoltasi alla camera la presenza della presidente macron a roma il 23 24 ottobre vedrà mattarella per un pranzo al quirinale si faranno una pastina un brodino secondo quanto sia appreso macron accompagnato da mattarella visiterà la comunità di sante egidio e poi andiamo a vedere che energia bonelli ok germania sul price cap al gas il tetto al prezzo del gas ma bisogna parlare in inglese perché sennò non siamo nessuno l'italia continua a dormire la germania corre sul piano per sopperire al caro bollette mentre l'italia con il ministro cingolani continua a dormire così il co portavoce nazionale di europa verde ed esponente dell'alleanza verdi a sinistra angelo bonelli commenta la decisione della commissione tetesca per il prezzo al tetto del gas io vi ringrazio per avermi ascoltato vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti grazie a tutti e arrivederci a presto ricordatevi tale italia seconda rete in cucina con carla che sono gli altri due canali uno mio tele italia seconda rete e in cucina con carla di mia moglie dategli un'occhiata così anche lei c'ha qualche iscritto arrivederci a tutti e grazie